In collegamento con un amico e tra l'altro mi ha fatto sorridere perché fuori onde ho detto ovviamente le darò del lei professore durante l'intervista, ma perché scusa siamo tra amici non vedo per quale motivo tu mi deva dare del lei. Buongiorno e benvenuto sulla cosa il professor Paolo Becchi, ciao Paolo. Ciao Matteo, per me è un piacere essere con voi se posso essere di aiuto con le mie idee lo faccio ben volentieri, il momento che stiamo attraversando nel nostro paese è difficile e sembra che tutte le colpe ricadano alla fine sul movimento che invece rappresenta la più grande novità del panorama politico italiano. Tu oggi hai scritto un documento Paolo, perdonami perché voglio fare questa introduzione poi ovviamente lascio a te lo sviluppo di questo discorso, questo documento che sarà disponibile sul blog a partire fra una quindicina di minuti, proprio il conflitto lo hai chiamato, le trattative per la formazione del nuovo governo si stanno volgendo a partire da una tensione fondamentale tra due differenti strategie per uscire dalla crisi politica. Questa tensione, questo conflitto non è quello che oppone Bersani a Grillo o i PD a PDL, il vero conflitto di questi giorni è quello tra Presidente della Repubblica e il leader del PD. Ci spieghi per poi arrivare a spiegare quello che abbiamo detto prima che è una nostra battaglia ovvero quella del potere legislativo che è precipua facoltà del Parlamento e non del governo che invece è l'organo esecutivo. Vorrei che ci introducessi tu per arrivare poi a questo che è il tema dei temi in questo momento. Direi che queste giornate sono caratterizzate come ho scritto in quel posto che apparirà tra poco, da un conflitto magari sotterraneo tra il Presidente della Repubblica che, badate, è significativo, non ha dato un incarico vero e proprio, tecnicamente un incarico vero e proprio a Bersani, ma ha dato una sorta di mandato esplorativo di pre-incarico. Quindi vuol dire che il Presidente della Repubblica non era così certo e sicuro che ce la potesse fare Bersani. Bersani lo aveva richiesto, Bersani aveva anche le carte in regola per richiederlo, essendo comunque leader della coalizione che è uscito per lo meno alla Camera come la forza di maggioranza, quindi era del tutto logico che il Presidente potesse scegliere in questa direzione, però il Presidente della Repubblica ha fatto bene capire che vuole avere da parte di Bersani l'assicurazione di una maggioranza di due Camere, che come sappiamo è indispensabile per dare vita ad un nuovo governo. Ora qui la partita, il conflitto è proprio tra Bersani, dicono che il Movimento 5 Stelle è irresponsabile, veramente qui l'irresponsabilità totale è di Bersani che sta giocando d'azzardo, sta giocando d'azzardo con il Paese intero, perché lui sa benissimo che sulla carta i numeri non ce li ha e quindi ritorniamo alla vecchia Prima Repubblica in cui si presume che al Senato qualche d'uno possa avere il mal di pancia, qualche donna magari le menstruazioni e che ne so io, a quel punto il quorum si abbassa e vuoi vedere che riesce ad avere la maggioranza anche al Senato, perché? Per un po' di assenze, per qualche mal di pancia, eccetera. Insomma, se un governo dovesse incominciare in questo modo, non è che sarebbe un gran successo. Ecco perché il conflitto è, il Presidente della Repubblica se l'assente di avvallare un'ipotesi di governo legata proprio ad un filo, a qualche assenza al Senato, a qualche presunto, al momento presunto voto di dissenso di grillini, come c'è già stato nel caso di Grasso, oppure non se l'assente di fare questa operazione e lì il conflitto è proprio questo, perché? Perché non è che stasera, quando andrà, diciamo, Bersani al colloquio con il Presidente della Repubblica possa dire, ecco qui c'è la lista, è molto chiaro che ho la maggioranza, quella maggioranza certa che il Presidente della Repubblica ha chiesto, Bersani non la può dimostrare, ecco il gioco d'azzardo, io voglio che mi sfiduciano in Parlamento, ma è questa l'azione semmai irresponsabile, irresponsabile perché anche nel momento in cui dovesse riuscire l'operazione, insomma quale serietà ha un governo che si basa sul fatto che un paio di senatori sono sono usciti per far diminuire il quorum del numero legale o qualcheduno in dissenso di linee prestabilite ha si astenuto o ha votato ha votato per il governo bisogna votare in maniera positiva, ecco per il programma di governo presentato da Bersani, quindi insomma questo è un gioco d'azzardo irresponsabile da parte di un di un leader che ha dopo le elezioni sbagliato tutto perché scusate, ma diciamoci anche una cosa cioè finora abbiamo soltanto un'occupazione come diciamo in altre asena di carreghe cioè la carreghe e la poltrona e la sedia lo dico per quelli che stanno sentendo il professore le poltrone insomma da una parte si è preso la poltrona della camera e quella del senato ora voglio dire la prima forza politica presente nella camera era presentata come forza politica automica dal movimento 5 stelle perché non hanno votato FICO cioè non c'era bisogno di nessuna particolare negoziazione sarebbe stato un gesto per far capire che insomma e invece no hanno occupato queste due poltrone adesso pensano ad occupare la poltrona del presidente della repubblica e cosa e poi accusano di autoritarismo di deriva pubblicitaria il movimento 5 stelle ma come c'hai le due camere voi addirittura dopo aver avuto un presidente della repubblica che tu hai espresso un altro presidente della repubblica diciamo corrispondente alla tua linea politica quindi insomma il governo in più ecco prof posso farti una domanda a bruciapelo allora scusami che finisco l'altra alternativa finisco il discorso è questa se la sente il presidente della repubblica di stare a questo gioco è un gioco d'azzardo il presidente della repubblica avendo dato un mandato esplorativo un pre-incarico non un vero e proprio incarico potrebbe dire no non me la sento di stare a questo gioco e quindi si ricomincia da capo perché il presidente della repubblica è lui che nell'incontro può dire non mi pare che ci siano le condizioni per far sì che il presidente della repubblica scusami Bersani giuri nelle mani del presidente della repubblica la formazione del nuovo governo e poi a base alla nostra costituzione ha dieci giorni di tempo per presentarsi alle camere e ottenere la fiducia perché Bersani vuole questa operazione? la pensateci bene perché in ogni caso per lui è un'operazione per lui vincente per il paese perdente in maniera più totale ma per lui è vincente perché? perché nel momento in cui lui giura e il presidente avvalla quindi questo tentativo e diventa lui il futuro eventuale governo di missionario primo potrebbe avere la fiducia e quindi si andrebbe avanti ad un navigare a vista perché insomma non avendo una maggioranza sicura questo governo potrebbe cadere in minoranza in qualsiasi momento al Senato e secondariamente nel caso in cui però non riuscisse in questo intento beh non avremo più il governo di missionario Monti avremo il governo di missionario Bersani certo che cominciare una legislatura parlano dei mercati, delle irresponsabilità eccetera formando un governo e poi andare subito come governo di missionario io penso che sarebbe veramente ridicolo sarebbe veramente veramente ridicolo a questo punto io credo che per risparmiarci tutta questa situazione il presidente della Repubblica possa tranquillamente dire no non sei riuscito nell'esplorazione che ti avevo detto di compiere il risultato non c'è stato e a questo punto io sono arbitro della situazione e mi riprendo le redini del gioco ecco questa è la domanda che ti volevo fare allora a me sono concesso che non vada a buon fine questo incarico esplorativo dato a Pierluigi Bersani secondo te prof Napolitano potrebbe tra virgolette forzare nuovamente il sistema e potrebbe decidere per esempio in assenza di queste garanzie e di formare nuovamente un governo come è accaduto con Monti un governo del presidente in grado di ottenere la maggioranza delle camere io penso che sarà diciamo così la politica non è logica la politica è anche molto irrazionale la prima scelta sarebbe del tutto irrazionale ma insomma è un'avventura questa seconda ipotesi è quella invece un'ipotesi logica che il presidente della Repubblica secondo me si è tenuto aperto perché insomma ormai è un esperto di governi del presidente ne ha messo uno ne ha tenuto in piedi uno per più di un anno per quattordici mesi per cui potrebbe farne uno come ne ha fatto uno per l'austerity farne un altro di professori invece questa qui per la crescita ma insomma è il rovescio della medaglia ma la medaglia è sempre la stessa però effettivamente potrebbe tentare o un governo istituzionale questo per mettere proprio in difficoltà direi il movimento un governo istituzionale per esempio guida grasso dicendo insomma grasso un po' di problemi al movimento 5 stelle lo ha dato un po' di mal di pancia minimo però l'ha dato e adesso incarico grasso che sarebbe tra l'altro una figura istituzionale Monti sapevamo era un banchiere da Bruxelles l'ha deciso Draghi deve venire lì non c'è poco da fare insomma qui sarebbe una cosa un po' diversa non è che ce lo impone direttamente la BCE ce lo porta in casa qui è direttamente colui che è stato eletto con la votazione che tutti ormai conosciamo e quindi potrebbe dar vita a un governo di natura istituzionale come si potrà rapportare il movimento 5 stelle insomma adesso è inutile che stiamo a ragionare su un'ipotesi che al momento è soltanto un'ipotesi però sicuramente sarebbe un'ipotesi che il Presidente del Consiglio potrebbe valutare ma grasso oppure potrebbe metterci un'altra persona di sua ritenuta da lui particolarmente autorevole ma ovviamente di un profilo differente io comincio a essere io sono professore ma lo so che ormai mi dicono tutti che vabbè io non ho laurea tutti questi discorsi qui lasciamolo parlare tanto un ubriaco e via ma voglio dire mi pare che il nostro Ministro degli Affari Esteri forse era più ubriaco di me quindi voglio dire siamo in tanti ubriachi in Italia e a quel punto direi che insomma fidarsi dei professori non lo so se in politica se non meglio degli altri perché voglio dire la figuraccia che ha fatto l'unica cosa che il potere l'unica cosa che Monti doveva rappresentare era l'esterno la politica estera eccetera abbiamo visto come è andata a finire quindi voglio dire anche l'immagine insomma questo uomo che è conosciuto belle immagine che abbiamo dato con i due Maroc abbiamo dato un'immagine meravigliosa quindi insomma anche lì comunque diciamolo francamente una nuova legislatura che comincia con un governo che va a dimissioni subito oppure che diventa dimissionario subito oppure con un governo istituzionale beh penso comunque che sarà destinato a breve vita insomma comunque i governi istituzionali non si può pretendere che facciano un'intera legislatura è evidente che sarebbe destinato ad una durata molto limitata nel tempo insomma ecco quindi direi che il conflitto comunque attuale ecco il senso del mio pezzo è questo il Presidente della Repubblica si trova in una grossa difficoltà da un lato dover dire di no tra l'altro un esponente del suo partito diciamo no e dall'altra parte utilizzare di nuovo questa carta da lui già sperimentata del governo del Presidente con risultati che francamente insomma a parte la situazione economica sulla quale io non è che posso pronunciarmi non ho una conoscenza dettagliata però sta sotto gli occhi di tutti la situazione economica però anche sotto il profilo politico non ha avuto quei contatti che a livello internazionale che si sperava ecco quindi direi che al momento attuale la cosa diciamo questo è l'impasse italiano e dire addossare ecco il senso del mio articolo di oggi addossare di tutto questo la colpa ai 5 stelle ma secondo me lo sta l'errore che ovviamente stampa ai giornali televisione e adesso io su twitter mi dovrò togliere perché professore lei sbaglia ma questi qui cosa credono che io cambi idea perché mi scrivono che io sono un ubriaco io sono abbastanza lucido per capire che la situazione attuale è stata determinata dall'incapacità fondamentale di gestire il periodo elettorale e il periodo post elettorale da parte del centro-sinistra e in particolare una grandissima responsabilità da parte di Bersani meglio più il 5 stelle più il movimento 5 stelle sta fuori da questi giochi e meglio è a me piace il blog che parla di altre cose ora se vorranno pubblicare il mio posto breve eccetera mi va benissimo ma mi piace che il blog continui a parlare di altre cose dei problemi che ci sono della TAV eccetera perché? perché insomma questi sono giochetti loro e che se li facciano un po' loro i giochetti tra qualche mese o tra un anno quando andremo alle lezioni vedremo che cosa succede insomma ecco prof intanto ti devo per forza leggere dei messaggi che ci sono che arrivano insomma messaggi di grande approvazione invece questa è la faccia dell'Italia che vogliamo vedere dei professori che ci mettono la faccia qualcuno ci chiede di parlare della prosecuzio credo che alludesse alla prorogazio prorogazio e ne parleremo però aspetta ecco sì io te la lascio spiegare però vorrei proprio per cambiare abbiamo parlato del conflitto quindi Pierluigi Bersani l'incarico eccetera eventualmente il governo del presidente come con Monti del presidente napolitano ma se e poi arriviamo appunto alla prorogazio dovessimo parlare di quello che abbiamo discusso oggi ovvero di questo sovvertimento silenzioso delle istituzioni contro lo stesso spirito della Costituzione che recita l'articolo 76 e 77 delle regole precise con cui il governo non può senza delegazione delle camere manare decreti che abbiano valore di legge ordinaria perché allora siamo noi del momento 5 stelle dei pazzi se parlano del fatto che il Parlamento già da domani potrebbe fare legge sul conflitto di interessi legge elettorale e subito dei provvedimenti per le piccole e medie imprese Matteo guarda questa è la più grande falsità che è stata messa in giro la cosa che oggi con mia grande soddisfazione è stata pubblicata recentemente insomma mi hanno detto poco tempo fa sul blog un breve messaggio è la tesi che io ho cercato di sostenere in connessione a come diceva io non vedo adesso i tweet quella persona che diceva l'idea della prorogazio la prorogazio era connessa strettamente a quel discorso il Parlamento opera già c'è l'idea che l'iniziativa diciamo così legislativa sia strettamente che il Parlamento non abbia autonomia legislativa ma è una cosa che per la nostra costituzione non sta né in cielo né in terra guardate io devo dirlo io non sono un costituzionalista quindi il mio modo di parlare è anche diciamo così magari non tecnicamente preciso ma quanto basta per dire che è una falsità assoluta quella che circola per cui il Parlamento da solo non potrebbe fare le leggi che ci vuole assolutamente un governo ma il governo c'è non è che noi adesso non abbiamo governo beh ce ne siamo accorti da tutte le cavolate che hanno fatto cioè non è che i due marò ce l'abbiamo mandato io indietro che ce l'ha mandato indietro il governo ma allora il governo c'è certo che c'è tanto è vero che adesso poiché il ministro degli affari esteri ha dato le dimissioni è subentrato ad interim il presidente del Consiglio stesso Mario Monti quindi non è che noi non abbiamo il governo sarebbe una situazione di anarchia se noi rimanessimo senza governo il nostro meccanismo istituzionale è tale che un governo c'è sempre questo che ci ha adesso è in prorogazio e ci starà finché un altro non subentra adesso ora la mia idea quella che avevo avanzato che è strettamente connessa al discorso che oggi si trova sul blog è questa vogliamo perdere del tempo prezioso oppure poiché dalla crisi politica per la creazione di un nuovo governo non ne usciamo in maniera dignitosa non cominciamo a fare qualcosa di serio all'interno del Parlamento e poi mantenendo in prorogazio il governo Monti e poi si ritorna alle urne ma il professor Becker che ha criticato un anno intero vuole a questo punto dare la fiducia a Monti ma no, io non do fiducia proprio a nessuno io leggo le mani a Monti e dico tu sei lì solo per fare i correnti l'attività legislativa e qui vengo alla cosa che tu mi chiedevi viene per questo periodo particolare totalmente diciamo così data al Parlamento cosa vuol dire? vuol dire che per l'ordinaria amministrazione resta in carica il governo dimissionario e l'attività legislativa si sposta nel Parlamento vuol dire che decreti leggi, decreti legislativi eccetera il governo non ne può fare ma questo non vuol dire niente perché l'attività legislativa tu hai citato gli articoli 76 e 77 ma scusate l'articolo 70 la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere cioè la funzione legislativa vuol dire chi è che fa le leggi non è che qui sta parlando del governo dice che la funzione legislativa è esercitata dalle due Camere cioè le due Camere devono essere d'accordo poi si può votare una legge e il procedimento diventa appunto una legge approvata articolo 70 articolo 72 ogni disegno di legge presentato ad una Camera è secondo le norme del suo regolamento della Camera esaminato da una commissione pure delle commissioni parlamentari e poi dalla Camera stessa che la approva articolo per articolo e con votazione finale articolo 73 le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione ora scusa 70 non sono i numeri dell'otto eh ragazzi non giocatevi dall'otto perché bene 70 72 e 73 mi vuole dire qualcheduno di questi luminari del PD dove compare la parola governo? io non lo vedo io vedo che qui l'attività legislativa è del tutto autonoma per il Parlamento che cosa voglio dire? voglio dire quello che ha scritto oggi non so Depp o chi l'ha scritto quell'articolo lì no? sul blog che per esempio se è vero che ci troviamo in questa situazione per via del cosiddetto porcellum non è che noi abbiamo bisogno di un nuovo governo eh? per cambiare la legge elettorale certo guarda il nuovo governo il governo Monchi è stato in carica 14 mesi a parte diciamo la distruzione del ceto medio e della popolazione italiana che questo bisogna dargliene atto ci è riuscito pienamente beh lui la legge elettorale non l'ha mica fatta quindi che bisogno c'è? del governo per fare la legge elettorale? beh la legge elettorale la si può fare in Parlamento ah ma no loro vogliono il governo perché? perché non sarebbero mai disposti a cambiare la legge elettorale perché in fin dei conti proprio grazie al porcellum il PD si è preso il premio di maggioranza alla Camera certo il problema allora non è tanto il governo il problema è che non si vuole cambiare la legge elettorale non è che non si può perché non c'è il governo non si vuole farlo ecco per cui l'idea della prorogazio si legava strettamente a questa proposta prorogazio per gli affari correnti del governo in carica visto che non siamo in grado di crearne uno con una maggioranza solida e al contempo fare quelle cose indispensabili e necessarie all'interno del Parlamento per poi riandare ad elezioni ma volcevismo la mia posizione è una posizione volcevica ma guardi io ho tutto rispetto per il 1917 e per Lenin ma non vedo cosa c'è se uno per caso in uno stato deve andare a votare due volte non mi sembra il dato di fatto è che con questo sistema elettorale non è uscita la possibilità di formare un nuovo governo che abbia una sua stabilità vogliamo prendere atto di questa situazione o vogliamo passarci da uno all'altro il cerino ma possiamo farlo tra l'altro ci accusano il Movimento 5 Stelle ma certamente se loro continuano a passare il cerino così per i prossimi mesi quando andremo alle elezioni tra un anno il Movimento 5 Stelle prenderà la maggioranza assoluta e potrà governare da solo quindi da un punto di vista di tornaconto personale ciao da un punto di vista di tornaconto del Movimento ma questo potrebbe andare anche bene ma il paese però crollerebbe del tutto la cosa è che la responsabilità di questo crollo viene attribuita all'unico Movimento che dice noi non vogliamo fare inciuci noi siamo qui con la nostra linea politica che è sia contro il centro-sinistra e contro il centro-destra siete degli responsabili e adesso gli intellettuali io mi definisco un operaio perché gli intellettuali mi sanno veramente schifo appelli, contrappelli adesso ci ci mettono anche i cantiauto e ci sono anche i preti e vuoi vedere che tra un po' ci metteranno ma Papa Francesco no ma vedrai che anche lì nella conferenza episcopale dirà ma insomma a Grillini ma che cosa volete fare? è pazzesco il modo in cui si possa mistificare la realtà invertire completamente i dati di fatto il dato di fatto fondamentale è l'incapacità della classe dirigente che ha questo paese di governare sia di centro-sinistra che di centro-destra e allora non è un semplice slogan li mandiamo tutti a casa ma è proprio il progetto politico oggi ho detto no? e mi ha detto ma professore sì è vero il Movimento 5 Stelle vuol prendere il potere ah perché c'è qualcosa di male? a prendere il potere vogliamo, penso che il Movimento 5 Stelle perché la locuzione prendere il potere porta immediatamente storicamente e culturalmente a qualcosa che ovviamente siamo i primi a voler cancellare però di fatto si tratta di quello cioè diventare la prima forza del paese significa esclusivamente avere una maggioranza tale per poter tentare di rovesciare questo paese come un calzino certo certo ma qui non abbiamo più niente ragazzi ma ve ne rendete conto che l'ultima politica energetica di quello sciagurato era quello che volevano riaprire le centrali nucleari in Italia quando le stanno chiudendo in tutto il mondo noi siamo l'università italiana non esiste più non esiste più neanche le facoltà sapete che non esistono più neanche le facoltà cioè la riforma Gelmini è stata veramente una pietra tombale non c'è niente di funzioni in questo paese ma parliamo anche del fatto che il PD e il PDL abbiano votato l'austerità scusami quando il movimento dice che ci vorranno chissà quanti di anni ritornare a un certo equilibrio ha perfettamente ragione qui le riforme da fare sono strutturali completamente una completa trasformazione del modo di vivere del modo di essere che soltanto il Movimento 5 Stelle embrionalmente vede adesso stanno qui invece di lavorare al Parlamento stanno a discutere sul fatto Bersani ce la fa, non ce la fa allora che ci mettiamo e già la discussione è beh allora tu mi dai Bersani e io mi prendo il Presidente della Repubblica veramente il Movimento 5 Stelle dovrebbe entrare in questi giochi e no il Movimento 5 Stelle a mio avviso deve starne fuori perché fuori perché è nato con l'idea di sostituirsi a tutto questo presa del potere è un termine antico quello che vuoi però corrisponde esattamente al programma del Movimento il Movimento ha questa aspirazione come progetto politico io credo che non si possa negare di un proprio governo è questa la presa di potere il governo dire noi vogliamo tentare vogliamo tentare di dimostrare che ce la possiamo fare con le nostre idee, con i nostri uomini e con le nostre esperienze no no non c'è dubbio lo dicevo perché per la semantica in questo momento è sempre molto pericoloso oggi per esempio la prima pagina dell'unità è questa patto, grillo, berlusconi fermare il cambiamento e questa è come la stampa rappresenta questa politica questo cambio questo tentativo di cambio culturale anche perché e poi chiudo ricordiamocelo ne abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi il Partito Democratico insieme al PDL con l'Udc insomma quando hanno sostenuto il governo Monti nel silenzio degli organi di stampa a dicembre del 2012 hanno ratificato praticamente tutte queste procedure di austerità che costeranno all'Italia 45 miliardi di euro all'anno per i prossimi vent'anni quindi dieci volte l'Imu ogni anno quindi hanno già deciso l'austerità e sono tutti stati d'accordo concordi sì certamente ma se tu pensi che hanno addirittura modificato la Costituzione per introdurre l'obbligo di pareggio in bilancio siamo arrivati ad una cosa che è veramente incredibile sotto il diktat dell'Europa abbiamo fatto cose che neanche in realtà ci chiedevano perché una cosa del genere non la chiedevano neanche e oggi ovviamente ci troviamo in questa situazione come tu hai ben descritto che è veramente catastrofale e la responsabilità dovrebbe essere dei 5 stelle no! secondo me sarebbe del tutto sbagliato se soltanto i 5 stelle in questo momento dessero un minimo appoggio perché diventerebbero corresponsabili il movimento 5 stelle deve stare fuori perché è fuori è vero che adesso è entrato dentro il palazzo ma dentro il palazzo se non c'ha altro ruolo deve fare un'opposizione un'opposizione seria a limite intransigente a limite se necessario anche ostruzionistica questi sono tutti strumenti non da dittatura del proletariato sono tutti strumenti tipici dei sistemi parlamentari se loro hanno la maggioranza e si gestiscono la maggioranza la minoranza l'opposizione sarà rappresentata dal movimento 5 stelle e se loro non riescono a crearsi una maggioranza sono affari loro perché noi dovremmo non ho capito bene il PD non può fare l'alleanza con il PD ma noi dovremmo fare l'alleanza con il PD per il benessere del paese ma perché? il Movimento 5 Stelle l'ha detto durante la campagna elettorale molto chiaramente quindi è inutile oggi andare a dire ma guardate sui blog se la prendono con voi sprecate un'occasione pensate a tutti gli intellettuali che su Repubblica su Repubblica 100.000 120.000 ci sono anche i preti che firmano i documenti ci sono anche i cantanti sai che cosa che cosa mi spaventa che cosa mi intristisce sono tutti l'unica cosa che mi intristisce è che purtroppo tantissime persone in Italia diciamo una metà una buona metà il 50% degli italiani non vanno in rete non hanno un computer non sanno cos'è un blog non hanno accesso a questo tipo di informazioni e purtroppo sta passando questo messaggio che per colpa del Movimento 5 Stelle ci sia questo immobilismo mentre siccome noi siamo proprio qui per smontare questo sistema perché io non posso più uscire di casa al mattino e vedere la fila al pane quotidiano della Caritas di tantissimi italiani ma anche se fossero stranieri ma tantissime famiglie italiane che sono lì in coda dalle otto e mezza del mattino per prendere un chilo di pane e un litro di latte io capisco che in questo momento il paese non sia assolutamente in grado di sopportare ancora mesi e mesi di immobilismo ma lo ripeto ci tengo a ripeterlo la austerità è stata decisa con un blocco unico da questo partito unico dell'austerità PD, PD, L, Udc tutti quelli che c'erano allegramente che hanno votato qualsiasi schifezza del governo Monti chiudendo gli occhi per grande senso di responsabilità e adesso il problema è dei ragazzi 5 Stelle ha appena entrati nelle istituzioni che ancora stanno cercando la casa e non sanno ancora come muoversi e il problema sono diventati il momento 5 Stelle io spero mi auguro spero vivamente che grazie al contributo di tanti intellettuali veri come te come tante altre persone che si stanno muovendo alla rete e ragazzi cercate di estrapolare le notizie dalla rete fare dei DVD dei CD parlate con le persone al bar in famiglia in giro portate dalla rete l'informazione fuori nelle strade perché questa è la nostra missione in questo momento far comprendere che il sistema sta facendo di tutto per impedire che questa nuova forza con tutti i suoi limiti difetti perché è appena nata del momento 5 Stelle riesca a scardinare il sistema il sistema sta reagendo come sapevamo perché sono dei lupi che sono agguantati attaccati all'ultimo pezzettino di carne che è rimasta evidentemente faranno di tutto per impedirci di rinnovare definitivamente questo sistema questo è un impegno guarda io penso che tu abbia perfettamente ragione hai ragione nel dire che purtroppo io capisco le visioni del movimento la rete l'internet gratis dalla nascita però il problema fondamentale è che al momento la situazione nel nostro paese è proprio quella che hai descritto tu ecco perché io forse sbagliando non lo so sono andato un po' in televisione poi ho deciso di non andarci più perché non non mi sembrava anche se alcuni dicono che ho fatto male che sarei dovuto continuare ad andare ma non mi sembrava di essere particolarmente produttivo però utilizzare il giornale utilizzare questi mezzi dove è possibile secondo me non è male perché perché inutile non tutti riescono ancora a comunicare cioè se il movimento avesse la cosa che già esiste esistesse proprio come una rete diciamo così nazionale come le altre che ci sono sarebbe un'ottima cosa voi state facendo veramente un'impresa eroica ecco però capisci che rispetto a programmi televisivi e bombardamenti continui soprattutto la televisione e dei giornali e di alcuni giornali è chiaro che il movimento si trova in difficoltà però io penso questo cioè il movimento ha assunto una linea molto chiara io credo che gli elettori abbiano capito questa linea quelli che ora dicono ma il movimento dovrebbe aderire eccetera non sono persone che hanno votato Movimento 5 Stelle anch'io lo penso sono persone che hanno votato PD e che adesso dicono ai grillini aiutateci perché io quando vado dal mio panettiere quando vado da laio che ormai mi conoscono perché magari mi hanno visto due volte alla televisione è la prima cosa che mi dicono non mollare perché il vol voi mollate noi non andiamo più a votare comunque non vi votiamo quindi c'è secondo me il movimento ha bisogno di manifestarsi oggi proprio anche se si porterà dietro l'accusa che questa compattezza è creata da casaleggio e grillo autoritario e al di là di tutte queste sciocchezze la cosa importante in questo momento è dimostrare una totale compattezza guardate questo non significa che all'interno non ci possono essere discussioni anzi all'interno ci devono essere discussioni c'è la mia cosa adesso ce ne potrà essere tra mezz'ora un'altra che dice no su queste cose il professore non mi ha convinto va benissimo questo tipo di discussione poi le decisioni che verranno prese in parlamento nei prossimi giorni e dovranno essere soprattutto per quanto riguarda l'eventuale voto di fiducia molto molto chiare non lasciare spazio a nessun a nessun equivoco perché è lì che si dimostrerà la coerenza del movimento e io credo che la crescita del movimento verrà anche data proprio da questa capacità di mantenersi fermi sulle posizioni che erano che hanno contraddistinto il movimento il movimento ha una forte carica antipartitocratica contro la partitocrazia e deve cercare di rendersi fedele a questo nel momento in cui dovesse entrare in una logica di accordo istituzionale politico per un governo a guida a Bersani e io penso anche a un governo tecnico che sarebbe un po' una sorta o istituzionale che sarebbe una sorta di specchietto per le allodole io credo che ci sarebbe una perdita il movimento si snaturerebbe e in poco tempo si frantumerebbe perché teniamo presente che i movimenti quando sono non istituzionalizzati come il Movimento 5 Stelle che adesso ovviamente è istituzionalizzato però deve vivere di questa apertura con la base con coloro che lo stanno seguendo eccetera e quindi diciamo così un tradimento dei propri principi ora in questo momento sarebbe proprio implicherebbe la fine o il forte ridimensionamento teniamo presente questo che il Movimento 5 Stelle non è non ha quel margine di voti che hanno i pirati o altri movimenti di dissenso in Europa i pirati in Germania l'indignados in Spagna in Portogallo c'è qualcosa di analogo la forza del Movimento 5 Stelle non è paragonabile a questi altri movimenti con i quali si può essere in sintonia perché insomma il 25 quasi il 26% non ce l'ha nessuno questo è stato un successo direi probabilmente al di là delle aspettative si poteva presumere una buona affermazione e questo è riuscito secondo me discutibilmente grazie ad una campagna elettorale che è stata avvicente diciamocelo francamente è stata una campagna è stata un'esperienza indimenticabile ecco bisognerebbe avere un po' di tsunami ogni giorno eh lo so lo so ma noi cerchiamo cerchiamo di farlo anche con i commenti di tutti i ragazzi quindi dovrebbe avere un po' di quella carica eh perché internet va bene il blog eccetera però la piazza ecco è certo cosa che voi cercate di fare ovviamente e questo secondo me è il servizio mh è il servizio più più utile eh io penso ma eh Casaleggio ha lanciato una nuova collana io ho scritto anche un libro lì eh si intitola ad agio no? quando ho visto il titolo ma io subito un po' protestato mi ricordo ma come? ma ad agio ma ti sembra un po' caso ad agio? e secondo me ho l'impressione che invece avesse ragione anche questo lui guarda forse ad agio abbiamo bisogno di crescere ad agio e e comunque voglio dire vedremo che cosa succede ecco però crescere ad agio nella propria nella propria autonomia ecco ecco senza perdere senza snaturarsi con eh diciamo con con accordi che e ma sai anche perché prof perché vivere vivere con lentezza ti dà anche la possibilità di soffermarti su alcuni piccoli particolari che poi fanno eh magari la verità sommandoli che se andassi veloce sempre sull'autostrada a tre corsie sempre sparato come un fulmine non vedresti quindi tutto sommato esatto è un'idea di ripristinare questa idea di vivere con lentezza che non significa andare indietro significa godersi le cose che ci sono intorno esattamente il parallelo con la decrescita felice perché adesso ci prendono in giro io non ho mai visto nessuno diventare povero essere felice decrescita è un'altra cosa ma ne parleremo ma certamente ma certamente ma vedi ma queste istanze guarda in realtà sono nuove d'accordo ma sono anche riscoperte eh certo se tu pensi che uno dei vecchi slogan ottocenteschi del movimento socialista del movimento operaio era il diritto all'ozio cioè capisci che nell'ottocento una delle aspirazioni fondamentali era quello per gli operai di dire ma noi abbiamo bisogno anche della tranquillità dell'ozio e si cioè qui noi dobbiamo recuperare tutta una serie diciamo di aspetti che sono fondamentali non ha senso come non aveva senso non avrebbe neanche senso una crescita io ho scritto nel libretto una battuta un po' forte ma insomma dicendo ma crescita per che cosa? per ritrovarci tra dieci anni nella stessa merda in cui siamo adesso perché se il problema è soltanto di riprendere a fare le stesse cose di prima a produrre più macchine a venderne di più eccetera cioè beh cosa non vedo il cambiamento a quel punto ci troveremo di nuovo da capo no? in breve tempo io credo che invece questi messaggi come la decrescita felice come messaggi diciamo di natura ecologica che sono parte integrante del movimento vedete la novità di questo movimento è che è riuscito a fare una cosa per certi versi simile a quella che molti anni fa hanno fatto i Grunen in Germania noi non abbiamo si dicono che c'è stato anche in Italia il movimento verde in realtà un vero e proprio movimento verde con quella forza che hanno avuto anche di governo il movimento dei Grunen in Germania in Italia non c'è mai stato ebbene la novità del movimento 5 stelle è che rappresenta diciamo istanze molteplici plurali per esempio l'anima ecologista non hai bisogno di un movimento a parte perché? perché ce l'hai già dentro nell'anima del movimento 5 stelle non hai bisogno di un movimento basato sulla solidarietà alla sella o che cosa ne so io perché? l'idea della solidarietà ce l'hai già all'interno del movimento 5 stelle cioè la grande novità di questo movimento è di aver preso se vogliamo anche un po' eclettica si direbbe filosoficamente pescato del buono un po' di qua un po' di là e alla fine hai diciamo così un fenomeno complesso e molto originale che sfugge alle identificazioni per cui queste identificazioni che oggi danno per cui insomma il movimento sarebbe l'anticipazione del totalitarismo perché il 100% però questo è anche il bisogno del sistema secondo me in maniera sciocca che non è in grado di capire la visione cioè devi per forza mettere un'etichetta così sai che quelli sono verdi quindi al massimo parlano di fotovoltaico di pannelli e di raccolta differenziata qui secondo me io ho aderito al movimento 5 stelle a questa idea perché è l'unico che ha una visione tutti i punti del programma sono interconnessi quindi si parla di decrescita perché significa ovviamente alzare la qualità della vita perché c'è meno trasporto pubblico perché quindi si guadagna più tempo per stare con la propria famiglia quindi aumenta la qualità della vita diminuisce la spesa per la sanità diminuendo la spesa della sanità ci sono più risorse da poter impiegare per esempio per la scuola e per la cultura con la scuola e la cultura migliorate ovviamente ci sarebbe un popolo più intelligente ed otto che sarebbe in grado di avere più strumenti per capire la verità quindi con la verità ci sarebbe più legalità cioè è tutto assolutamente correlato ed è talmente una cosa secondo dal mio punto di vista modesto ovvia evidente che capisco che il sistema sia completamente lui sì ubriaco perché non riesce a trovare il nord la direzione per seguire incanalare questo movimento sì guarda sono d'accordo completamente con l'attuale secondo me non si rendono conto di una cosa che in realtà in italia è cominciato in maniera pacifica e questo bisogna darne atto veramente al movimento stesso un processo rivoluzionario perché quelle cose che stai dicendo implicherebbero un cambiamento complessivo del nostro sistema di vita quindi diciamo così probabilmente anche un cambiamento della forma stato cioè uno stato che sia molto più vicino al cittadino e magari senza troppe intermediazioni per esempio l'idea dell'abolizione delle province e questo è del programma ma si potrebbe anche discutere sul fatto sul significato che possono avere le regioni o seppure è più importante impostare l'accento su macro regioni e poi magari su piccole entità come sono i comuni su piccole comunità guardate secondo me c'è un richiamo che Beppe fa da qualche tempo credo almeno io me lo ricordo da qualche tempo all'idea di comunità certo e secondo me è fondamentale cioè di solito i movimenti costruiti sull'idea dello stato e sull'idea dello stato forte dello stato dei partiti richiamano l'attenzione se ci pensate bene filosoficamente all'idea di società o di società civile e la società civile che poi è articolata al suo interno per esempio in sindacati partiti eccetera e da lì trae poi espressione se vogliamo la volontà politica e lo stato l'insistere sulla comunità comporta un altro genere di riflessioni dove la centralità diventa dell'individuo che sta all'inizio in piccole comunità ed è lì che comincia a discutere e ad affrontare i problemi e affronta i problemi discute i problemi concreti le cosiddette comunità concrete tra l'altro anche qui c'è da dire non è che vedete rivoluzione e tradizione da Hegeliano marciano sempre insieme cioè stiamo parlando di cose nuove ma stiamo parlando anche di cose vecchie l'idea di comunità e beh insomma è una riscoperta perché l'idea di comunità ce l'hanno avuta i sociologi tedeschi alla fine dell'ottocento con Ferdinand Tönis ma ce l'abbiamo avuta anche in Italia con Adriano Olivetti con il discorso sull'idea delle comunità sulle piccole comunità quindi secondo me il movimento ha bisogno di metabolizzare queste idee ecco io direi che mi auguro che come posso aiutarlo io ci siano degli altri che lo facciano perché poi le mie competenze sono molto limitate loro hanno una schiera di persone pagate per scrivere le cose perché sono pagati noi abbiamo poche persone ecco io mi auguro che queste poche persone che al momento ci sono aumentino sempre di più e portino il loro contributo al movimento perché il movimento deve crescere anche sotto il profilo delle proprie idee dei propri messaggi ma certo però fa anche perché senza voler togliere importanza spessore ai nostri eletti nel Parlamento i nostri eletti cinque stelle che sono dei semplici cittadini loro sono io li vedo un po' con le loro competenze ma come degli involucri vuoti adesso io mi aspetto che la migliore parte della società civile e capisco che non sia facile come stai facendo tu in questo momento essendo un professore però mettendoci la faccia che la parte migliore della società entri a gamba tesa dentro il movimento spiegando affiancando come una sorta di tutoring cioè dei professori che facciano tutor che seguono i nostri eletti che rimangono lo strumento per portare le istanze della base dentro alle istituzioni per farle tradurre in qualcosa di pratico in leggi ma che ci siano i migliori esperti i migliori cervelli in ogni settore in ogni competenza che affianchino invece di stare fuori criticare e sperare che questi tromboni della politica facciano per l'ennesima volta l'ennesima promessa poi disattesa che entrino aiutateci affiancate questi ragazzi non abbiate paura cioè fatelo metteteci le vostre competenze ecco io sì qualche volta Beppe l'ho anche detto secondo me bisognerebbe forse ripeterlo io credo che ci sono diciamo nell'ambito economico quello che non è poi la mia competenza però ci sono sicuramente tutta una serie di persone validissime che sono disponibili che hanno già collaborato con il movimento che collaboreranno sicuramente con il movimento io credo che di questo il movimento abbia sicuramente bisogno perché certamente tu hai detto questi ragazzi che sono entrati in Parlamento hanno una grossissima responsabilità però noi dobbiamo lasciarli da solo del resto l'idea del movimento era proprio questa che lì sono i nostri portavoci che quindi devono mantenere un rapporto diretto proprio con coloro che li hanno eletti e lì ci deve essere questo scambio anche io credo che però ci sia perché guarda l'importante ecco vedi io noto nella mia categoria molta arroganza molta voglia di magari apparire come insomma centrale nel movimento questo ecco secondo me è sbagliato io penso che l'intellettuale grillino come mi hanno detto che io mi hanno autorizzato a chiamarmi qui a Genova l'intellettuale grillino mi ha detto si professore glielo concediamo a lei mi hanno detto ecco l'intellettuale grillino dovrebbe essere al servizio semplicemente al servizio come loro servizio del paese nel Parlamento il nostro ruolo dovrebbe essere magari qualche volta anche dando consigli ma viva Dio ma certo ci possiamo sbagliare sicuramente però insomma mettere a disposizione le nostre le nostre capacità le nostre competenze poi ovviamente sarà il movimento a valutarle per esempio ti faccio un esempio io sono rimasto felicissimo oggi quando qualche amico mi ha chiamato mi ha detto io non avevo tempo perché ci avevo da fare all'università per il servizio sociale c'ho dei problemi enormi e non avevo tempo e mi telefono e mi dico abbiamo visto che Beppe insomma ha ripreso la tua idea sul fatto che il Parlamento può lavorare e io ho detto ah è bene mi fa piacere ma non c'è bisogno che lo scrivi Becchi che ci metta la firma Becchi certo un'idea che io ho sostenuto per questo mi hanno ridicolizzato alla televisione come lo sapete benissimo perché l'hanno preso per un pazzo ubriaco si vede che i pazzi ubriachi siamo due perché se tu oggi vai a leggere il pezzo l'ultimo o il penultimo adesso io non lo ricordo dice più o meno le stesse cose ma è quello che deve essere lo stimolo probabilmente quando io l'ho annunciato non era ancora al momento è apparso mi pare sul blog se non va derrato di Claudio è messo ora e al momento giusto quando il movimento sembrava e probabilmente è così il momento giusto tacchete che è uscito oggi un post che chiaramente riprende l'idea ragazzi dicono ma qui il Parlamento certo che può diamoci da fare e lavoriamo nel Parlamento è così che deve essere l'aiuto dell'intellettuale magari all'inizio non sei ascoltato e poi quando sei il caso si insomma sai perché mancano un po' questi intellettuali che non vogliono così subire il fascino il canto delle sirene ma si avvelenano un po' il cuore per la visibilità perché come scrive Salvatore Gallo e sono d'accordissimo con lui un tempo in Italia come imprenditore c'era gente come Adriano Olivetti adesso c'è Briatore questa è la crescita infelice eh sì questa è bellissima è bellissima è proprio così capisci però ecco ripeto dissidenti intellettuali che sono un po' diciamo al di là del regime no che ce ne sono e quindi devono magari uscire un po' più eh metterci un po' più la faccia io ci ho messo la mia è quello e posso assicurare non è facile perché me ne sono sentito dire di tutti i colori me ne sentite me ne sento dire di tutti i colori però devo dire che insomma vuol dire che stiamo toccando là dove non si deve toccare va bene ti racconto una cosa che è vera perché i miei figli lo sanno no e ieri no eh sono arrivato e a casa c'era un pacco enorme un pacco enorme ma cosa c'è in questo pacco apro questo pacco era pieno di marmellate fatte in casa di bottiglie di di vino eccolo l'ubriacone succo di mele no vino non ce n'era peccato il vino non mancava no poi chi era un contadino grillino un contadino grillino che mi ha scritto dicendo professore io non so come ringraziarla per quello che sta facendo per noi e ho pensato di farle in omaggio queste marmellate queste salse di pomodoro che ho fatto io e me le ha spedite tutte in casa per me questa è stata la più grande soddisfazione degli ultimi degli ultimi mesi evviva allora vedi che c'è sempre un lieto fine allora prof io ti ti ho rubato molto tempo adesso dico anche alla nostra comunità che stiamo per intervistare eh Patrizia Aldrovandi per raccontare anche le cose che sono successe quindi ti vorrei lasciare grazie mille anche perché se ci lasciamo ancora qualcosa da dire cioè ci alziamo da tavola con ancora un po' di appetito oltre a essere sano mi fa dare avere la possibilità di chiederti se magari a settimana prossima nei prossimi giorni possiamo risentirti perché guarda che qua ne approfittiamo eh qua d'accordo siamo approfittatori un saluto a tutti voi un saluto a tutti voi un abbraccio eh grazie al professor Paolo Becchi per metterci la faccia per essere così solare e competente e aver avuto anche questo coraggio perché servirà da sprone anche per tante altre persone che si seguiranno speriamolo eh ciao eh ciao grazie mille grazie a tutti